Quando la ricerca che parte dall'Abruzzo rende orgogliosi gli abruzzesi, è stato identificato il responsabile principale della tempesta citochinica che si presenta nei soggetti più gravi affetti da Covid-19. Lo studio, condotto da medici e ricercatori abruzzesi del CAST dell'Università d'Annunzio e delle ASL di Chieti e Pescara, in collaborazione con l'Università di Verona, è stato pubblicato su una delle prestigiose riviste del gruppo Nature. Per capire come i risultati di questo studio possano favorire lo sviluppo di terapie più efficaci per trattare i casi più gravi di Covid, occorre prima di tutto capire cosa è una tempesta citochinica. La citochina è il nostro segnalatore di pericolo, quello che induce la risposta immunitaria. Proviamo ad immaginare un'infezione virale come un bosco in fiamme. L'allarme antincendio, la citochina, si attiva e rileva il fumo, richiamando l'attenzione dei vigili del fuoco. Una volta domato l'incendio, in condizioni normali, l'allarme si spegne. Ma cosa accade se, invece, quell'allarme e la citochina continuano a suonare, richiamando sul posto altri vigili del fuoco e poi ancora altri, impegnandoli in un'azione invasiva di disboscamento totale? La tempesta di citochina, in questi casi, non può essere disattivata e causa reazioni ben più dannose del virus stesso. Ecco perché è così importante identificare il percorso seguito da questa incontrollata produzione di citochine infiammatorie. Questo, dunque, è l'ambito di ricerca in cui si è mosso il cast dell'Università d'Annunzio, coordinato dalla professoressa di anatomia patologica Manuela Jezzi. La ascoltiamo. Covid ci ha mostrato che effettivamente questo virus è in grado, purtroppo, troppo spesso, di indurre questo tipo di complicazione, che è quella che effettivamente porta a morte molti pazienti e diventa mortale anche per pazienti più giovani o anche senza troppe comorbidità. Un'immagine presa con questo microscopio confocale dà un polmone che viene da una paziente deceduta di 56 anni, quindi una donna giovane senza altre patologie che potessero provocarne la morte così precocemente. Quello che mostriamo qui è proprio come nel polmone si scatena questa risposta infiammatoria guidata da queste particolari cellule, che sono dei particolari macrofagi, cellule mieloidi, che identifichiamo da questa colorazione rossa, che esprimono una proteina particolare in questo tipo di maturazione, che è FLIP, che attiva una via di trasmissione del segnale che vediamo qui colorata in bianco, che è quella di STAT-3. STAT-3 è il nostro bersaglio. STAT-3 abbiamo dimostrato essere la via di segnalazione che induce tutto il resto, quindi all'origine di tutta la tempesta citochinica. STAT-3 è quel segnalatore di fumo che continua a segnalare all'infinito e quindi in qualche modo, mi perdoni il termine, impazzisce. STAT-3 sì, richiama tutti i pompieri che abbattono il bosco. STAT-3 quindi agendo direttamente su quello in qualche modo si disattivano anche tutti i figli di quel segnalatore. STAT-3 esattamente. Quello che noi stiamo facendo è proprio cercare di altri farmaci e altri approcci biotecnologici per inibire in maniera sempre più specifica questa via, in modo da poter utilizzare questi nuovi farmaci non solo nel Covid ma anche in altre patologie in cui la tempesta citochinica rappresenta un problema clinico importante. STAT-3